Eleonora, guardiamo prima al lato positivo prima di parlare della partita. Oggi sei entrata in campo, sembrava quasi fosse un esordio, ma in realtà c'era una riminescenza effettivamente di una partita giocata 3-4 stagioni fa. Ormai eri piccolissima, però che emozione è stata tornare in campo oggi a distanza di tanti anni per la tua seconda presenza in Serie A? È sempre un'emozione fortissima ritornare in campo, soprattutto con gente più grande di me. E' un'emozione unica come quattro anni fa, con a fianco Gabbiadini, Giuliano, gente importante e sono felice. Senti, oggi è stata una partita finita, 4-0 per la Juventus è andata così, adesso c'è la sosta, il Verona vuole lavorare, vuole ritornare dopo la sosta per prendersi quello che serve, per salvarsi. La partita è andata così, sapevamo contro chi andavamo e adesso faremo di tutto per migliorare e tornare più forti di prima. Chiudo perché sei tornata in campo in Serie A, proprio con l'allenatore che hai avuto in primavera, mister Matteo Pacchera, è quello su cui deve lavorare il Verona Portale delle Giovanni Come Tec, c'è una classe 2001 in Serie A. Sì, sono molto felice che il mio mister abbia avuto l'opportunità di andare ad allenare la prima squadra e sono felice che abbia portato su anche me e speriamo bene.